Oggi la benzina è un carattere, è l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia a piedi di chi va, ha l'auto che come un vita, la popolino amaranto vai, sia di miei accanto che adesso si va, se la lascio sciolto un po' la briglia mi sembra una briglia, i rivali non hanno... Oggi è un'occasione molto particolare, siamo ospiti della Lamborghini a Sant'Agata. Il signor Balboni che è un collaudatore che dal 1968 era qui a collaudare questi meravigliosi motori della Lamborghini, ci affiancherà per fare un po' la storia di questa splendida azienda italiana. Lamborghini inizia subito dopo la guerra a trasformare dei mezzi militari in trattori agricoli. Ha molta fortuna, è molto abile naturalmente, riesce poi a fare una fabbrica di trattori, poi si espande assieme anche ai fratelli a altre fabbriche di bruciatori, di altre attività, tutte connesse, quindi riesce ad accumulare anche una certa fortuna economica e naturalmente la sua passione è le automobili. Aveva già corso una mille miglia prima della guerra con una Fiat 500 trasformata. Inizia a fare queste autovetture, naturalmente qui il primo modello o i primi modelli non ci sono, lo chiama 350 e lo fa in contraposizione con Ferrari perché Ferrari non lo accontentava, voleva dare dei suggerimenti, farsi fare una macchina dal grande Enzo a modo suo, il che Enzo gli ha risposto letteralmente che vada a guidare dei trattori. Non ha guidato i suoi trattori, ha fatto tutto questo, ma noi ci atteniamo oggi al modello Miura. Qual era la sua impressione quando ha incominciato a guidare questa stupenda vettura? Questo progetto era già per quei tempi rivoluzionario, infatti si trattava di un motore posteriore, longitudinale, dove praticamente in un metro di lunghezza per 70-80 centimetri di altezza c'era motore, cambio, differenziale, tutto compreso. Le soluzioni tecniche erano all'avanguardia, già nel 69-68 quando abbiamo cominciato a farle e a svilupparle, e ancora oggi è una meccanica invidiata da tutti e che ci sta dando ancora grandi soddisfazioni. Il padre di questo motore chi è? Il motore fu sviluppato dall'ingegnere Stanzani, coadiuato dai grandi tecnici come Pedrazi e Bevini. A quei tempi loro svilupparono il motore con l'ingegnere Dallara che si occupò in particolare della parte teleistica e così con questo gruppo ridotto di persone è nata questa meravigliosa macchina che ancora oggi è il fiore all'occhiello ed è un simbolo nella storia dell'automobilismo. Lei che ne è stato con l'auditore, qual è stata l'impressione, avendo questo 12 cilindri così tanto dotato di cavalli, così ben assettato, così centrato nel primo colpo? Lo scopo principale era quello di avere una vettura di dimensioni ridotte, una vera sportiva, per cui questi progettisti hanno avuto questa idea meravigliosa che era stata quella di tenere il gruppo propulsore estremamente piccolo, naturalmente le potenze sono quelle conosciute nonostante le dimensioni, e avere una macchina estremamente compatta e i pesi ripartiti in modo ottimale, diciamo che al posteriore abbiamo il 65-70% e sul davanti praticamente i serbatoi della benzina, altri accessori, equilibrano la vettura in un modo non ottimale ma sicuramente molto molto buono. Questo motore è il motore a 12 cilindri V di 60 gradi e un 4 litri di cilindrata, 3.929 esattamente. All'inizio le prime versioni erano sui 360 cavalli, poi dopo abbiamo variato un po' qualche cosa, migliorati gli assi a cami, la carburazione, i carburatori stessi, e abbiamo raggiunto potenze di 375 cavalli. Certo questa macchina qui già quando si sa sentire parlare di 375-380 cavalli era una cosa che faceva in un certo senso rabbrividire, pensare di tenerli stretti in un certo senso con un telaio che era quello che era, i freni, le gomme di allora, paragonate ai riferimenti che abbiamo oggi, c'è proprio da dirci o da dirsi che è stato veramente un grande successo. Nel 1966 questa vettura viene presentata al Salone di Torino, priva di carrozzeria. Ricordiamo che allora avevano collaborato con la Lamborghini, dei disegnatori del calibro di scaglione. Il mondo viene sorpreso dall'uscita di questo modello con motore posteriore, con un 12 cilindri e questo dà molto da fare anche perché è la macchina in quel momento più veloce, con i suoi 280 km all'ora, ed è anche la più bella e soprattutto con il motore posteriore. Ricordiamo che allora c'era, oltre alla Ferrari, motore anteriore naturalmente. Balboni, come si viveva all'epoca quando lei è entrato in azienda come collaudatore, questa rivalità con la Carlo Di Maranello, che penso tuttora sia viva in voi, perché come tutte le aziende del calibro della Lamborghini, così la Ferrari, la Maserati, c'è un po' un motivo di affezione molto particolare da parte di chi ci lavora. Tendete tutti a sentirlo un po' come la vostra famiglia. Qua generazioni di appassionati, non solo di tecnici valenti, ma di appassionati nel vero senso della parola, ci lavorano. Quindi penso che nello spirito vostro ci sia un po' questa rivalità, ancora sentita male, poca com'era. Quando la Lamborghini ha cominciato ad affermarsi, e soprattutto quando è uscita la mia ora, abbiamo dato fastidio a molti qua intorno. Ed era un piacere, le devo dire, andare in giro qui, e soprattutto avevamo la tendenza ad andare a provare dalle parti... Di Maranello, non mi dico. ...della parte qui, di là dal fiume, diciamo noi, no? Ed era molto interessante. Andavate a stuzzicare la concorrenza. Sì, trovavamo qualcuno alla strada che provava a starci dietro sicuramente. E come si metteva la faccenda? Beh, le dico che è stato divertente in molti casi. Con la genialità, tra parentesi, e l'incoscienza, si circondò delle menti più geniali dell'epoca. Giotto Bizzarini, Ingegner Dallara, Paolo Stanzani, Giulio Alfieri, Franco Scaglione, Nuccio Bertone. Questo era lo staff per quanto riguarda una parte dello staff, naturalmente, senza dimenticare le maestranze, gli operai, i dirigenti, i collaudatori, che portarono questa vettura ad essere conosciuta ancora di più la Lamborghini in tutto il mondo. Grazie a tutti. E' l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia a piedi di chi va, a l'auto che comodità, ma popolino amaranto vai, sia di mia accanto che adesso si va, se la lascio sciolta un po' la briglia, mi sembra una briglia, i rivali non hanno...